tra l'altro anche questo è 200 ml di solito i tonici sono da 100 o 150 ciao grazie di essere qui con me oggi oggi come potete vedere barra sentire sono all'aperto e quindi sentirete la mia voce ma anche molto i suoni esterni e spero mi sentiate lo spero davvero non lo so e ho deciso di registrare fuori per diversi motivi devo dire la verità fra cui il fatto che non mi andava di costruire un setup e soprattutto in realtà fino a pochi minuti fa pioveva e quindi volevo farvi sentire il suono della piozza ma non si sente più però mi piace tantissimo lo sfondo da matti e non è centrato e volevo anche farvi sentire un po' gli uccellini che cantano dopo insomma che è venuta piozza non riesco a fare il finger flattling perché ho le mani tutte umide perché ci è umido fuori siamo sempre l'Emilia Romagna poi e ditemi se vi piace questa questa location per fare video che magari alcuni li posso fare qui fuori secondo me la vista è bellissima è super rilassante quindi mi piacerebbe un sacco voglio fare anche video qui oggi voglio fare un haul di cose comprate e di cose regalate cioè inviatemi dalle aziende perché ho accumulato un pochino di roba e quindi ho detto non faccio un haul make uposo schingeroso da un po' e quindi volevo farlo e parto dagli ultimi acquisti che sono cose che ho comprato io e sarà anche una mini recensione diciamo così per le cose che ho provato ok partiamo subito i primi due acquisti vengono dal sito di Pinalli e in particolare ho comprato queste due cose il mascara di Nabla il Vicious bellissimo dopo ve lo faccio vedere bene il peeling diciamo così si chiama multi acid skin peeling juicy pop di Mulac partiamo da questo faccio vedere il pack è veramente bellissimo mi fa impazzire questo arancione è un arancione vabbè non naturale ecco però cioè non dato da chissà che ingrediente però è molto carino e il pack è veramente bello dentro il liquido è fatto così e si il germe è tenso non troppo e ne vanno applicate due o tre gocce sul viso lasciate agire dieci minuti due o tre volte a settimana due o tre gocce due o tre pump e si dice pump due o tre pipettate c'è scritto ha un profumo incredibile c'è proprio dal punto di vista sensoriale sia visivo sia olfattivo è meraviglioso questo prodotto costo un po' perché costa sui 20 25 forse euro forse un po' di meno 23 22 non è vero forse 27 non mi ricordo che lo scrivo qui se volete però insomma sono 50 ml direi che dura un bel po' spero l'ho usato solo una volta quindi vi sono una recensione parziale però non mi sembra abbastanza buono lascio la pelle molto morbida però stasera lo riprovo insomma vi saprò dire magari nelle storie vi aggiungo su come mi trovo questo prodotto e la seconda cosa che compro di Mulac la prima era in my birthday suit la palette quindi non ho mai comprato una cosa di skin care di Mulac un pello di ami qui si è attaccato si è attaccato allo smalto no vi giuro non riesco a dirvi di cosa sa sa moltissimo d'estate fresco non è neve floreale forse è un po' fruttato ah no ok sa di della pesca vi giuro sa di della pesca buonissimo proprio la brevanda chiacciata buonissimo quindi insomma però mi sembra un bel prodotto e poi proprio anche bello da tenere in bagno da esposizione ultimamente visto che ci sono anche tantissime opzioni diciamo così molte volte opto anche per l'opzione che si mi sembra più valida ma anche che ha il pack più bello per me il pack conta abbastanza ecco non tutto però mi attrae molto sono una che si fa molto attrarre dal pack secondo acquisto che ho fatto è stato il mascara nuovo di Nabla che si chiama Vicious allora anche qui il pack è qualcosa di guardate qua è una roba proprio lussuosa meraviglioso mi fa impazzire e l'avrei preso anche quasi per questo proprio si si distingue secondo me anche da altre mascara che hanno un pack bello ma questo è meraviglioso qui c'è scritto Vicious che è in rilievo cosa potete sentire? qui Vicious questi occhi bellissimi di Pantera bellissimo Pantera penso si bellissimo dentro lo scovolino è così quindi è sottile e di solito io non prendo questo tipo di mascara dopo vi faccio anche il paragone con uno che avevo già perché per le mie ciglia di base sono migliori mascara cicciotti soprattutto soprattutto quelli a glissitra cioè per le mie ciglia l'ho sempre trovato i migliori forse anche per come applico per la mia forma dell'occhio per come applico io il mascara ho deciso di fare anche un po' di soft spoken così copro un po' le auto però avevo sentito delle recensioni fantastiche su questo prodotto non avevo mai provato nulla di nulla di NABLA mai 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 ed è sempre stato un prank che comunque mi attirava tanto italiano vegano cruelty free mi ha sempre attratto tanto i bag i bag loro sono pazzeschi e nulla ero molto curiosa costa comunque verso i 22-23 euro secondo me in tutto avrei pagato 48 di questi due ma sì 48 ma c'era tipo lo sconto forse anche 50 e c'era lo sconto e ho pagato 12 ore in meno quindi ho pagato 38 euro che alla fine è un buon prezzo e almeno scotch a pagare 20 euro per un mascara se è buono poi tra l'altro io sono sono cosciente di pagare proprio anche il pack che è bellissimo e sono contenta così diciamo che mi aspettavo leggermente di più da questo mascara per avere uno scovolino così è molto buono questo è non so se non so se si possa vedere adesso ve l'ho fatto vedere bene su instagram ti voglio dare ancora un po' più di tempo perché è un acquisto recente e i mascara per me migliorano dopo una settimana o due che ce li hai perché si si seccano un pochino già e per me migliorano tantissimo quindi gli voglio dare del tempo non è male però non mi ha sconvolta come magari mi aspettavo dalle recensioni di usannare questo mascara è buono e ripeto mi fa impazzire il pack e comunque ci sta come prodotto l'ho paragonato a questo qui questo qui è il mio mascara preferito tipo una beauty c'è qualcuno che ride non lo so e questo è lo scovolino che io mi preferisco questo si chiama volume up e ho guardato più o meno il risultato è quello per ora anzi il risultato era paragonabile diciamo così molto simile ma questo è secco quindi insomma devo un attimo capire questo è uno dei miei mascara preferiti di sempre insieme al Pupa Vamp quindi insomma stiamo parlando di mascara che comunque mi soddisfano tantissimo questo forse le separa un pochino meglio questo si ma mi dà un po' meno volume come normale che sia come e lo scovolino è fatto apposta vedremo con il tempo ho fatto questo suono nelle storie mi è piaciuto tantissimo e lo scovolino questi erano gli acquisti che ho fatto da Pinalli e poi adesso vi faccio vedere altri due acquisti che ho fatto e poi passiamo alle cose che mi sono state inviate un po' in breve allora passando ai capelli volevo parlarvi di questo brand non è né sponsorizzata né pagata questa cosa sono andata in una mia profumeria a prenderle in mani trovate anche su Amazon se volete vi lascio sotto il mio link affiliato allora ultimamente io ho quasi sempre usato prodotti della Garnier per i capelli mi sono sempre trovata abbastanza bene tra l'altro la Garnier è diventata recentemente credit free quindi è ancora meglio costano poco eccetera ultimamente tipo le ultime due volte che mi ero avate i capelli mi erano rimasti i capelli sporchi ma proprio sporchi schifosi cioè non lavati e una volta vabbè dice che ho sbagliato le ho sciacquati male due volte e ti chiedi tipo non so cosa si è preso i miei capelli ma non lo so non mi ci trovavo bene con i miei prodotti e quindi sono andata sul sicuro e ho voluto spendere di più per dei prodotti che sapevo essere di qualità e questo costano 12 euro l'uno quindi hanno un prezzo cioè non sono lì a dire che costano come quelli della Garnier assolutamente però sono vegani made in Italy cruelty free vabbè made in Italy per forza sono cruelty free non è detto però insomma e sono anche i cubi o per chi fosse interessato anche a questo tipo di prodotto insomma certificati anche per avere una produzione diciamo sostenibile e io avevo mi avevano mandato questi prodotti cioè i prodotti questa azienda mi aveva mandato i loro prodotti una cosa come tre anni fa mi ero trovata veramente molto bene soprattutto con il balsamo che adesso mi faccio vedere e quindi mi è capitato di riprenderli in questi tre anni perché sono molto buoni mia volta è frenato un pochino il prezzo però vi dico che questo mi dura due forse anche tre mesi quindi alla fine in realtà non è chissà che cosa il prezzo però lì quando li prendici oddio anche se ci sono alcuni prodotti che costano molto molto di più lo shampoo è l'ibisco e il balsamo è il mililoto questo balsamo è un qualcosa di incredibile io mi ci trovo di un bene ma idrata bene anche i miei capelli che sono decolorati e abbastanza comunque deboli evita molto il crespo e non mi fa venire i capelli da pazza come tutti gli altri pazzami io non lo so mi ci trovo proprio benissimo super consigliato anche lo shampoo è molto buono ne serve molto poco fa schiuma a volte prodotti coppia non fanno schiuma io odio questa cosa perché non capisco che parte lavata che parte non di l'audio invece questo fa anche la schiuma e io questa marca ve la consiglio tanto anche il diciamo il liquido anticrespo e mi ci trovo molto bene e poi un brand non so che mi piace tanto è piccolino insomma che mi fa di sostenere anche ve li consiglio ve li consiglio molto li trovate appunto anche su amazon oppure e nelle più profumerie almeno nella mia città lo trovo quindi insomma hanno anche un profumo buonissimo ma non esagerato non so se soprattutto se siete interessati al prodotto e copio siete abituati a comprare prodotti e copio questi sono molto validi molto e passiamo ai prodotti Cosmify che mi sono stati inviati recentemente io ho un link affiliato con Cosmify vi lo lascio qui sotto fondamentalmente se volete fare un acquisto di questo prezzo su questo sito andando attraverso il mio link io ci ricavo una piccola percentuale tutto qui se non lo volete fare chi se ne frega io parto dalle delle ultime cose che mi sono arrivate e che sono veramente di cui sono veramente contenta in realtà ne ho provato solo uno quindi ve ne so consigliare solo uno l'altro è immaginazione sto parlando di nuovi contornocchi di richioba si chiamano Under Eyes Bell e sono una continuazione di una sua linea di skin care allora io personalmente non ho provato i suoi siri e le sue creme perché li ho dato a mia madre perché con tutte le cose che ho da provare non riuscivo a provarli in questo momento ho letto delle buonissime recensioni ho visto anche delle buonissime recensioni ma non ho visto dire la mia opinione invece ho provato questo contorno e devo dirvi che mi piace tanto tanto questo è il contorno Key 01 invece questo col back blu è lo 02 questo fa parte della collezione contro la luce la luce blu dei dispositivi e non lo ancora provate è ancora integro perché prima voglio finirne uno e questo mi durerà tanto sicuro adesso vi spiego anche il perché come è fatto praticamente a queste queste sfere di di metallo e fredde da cui spremete e esce il prodotto no ok e come vedete questo contorno occhi è pescato ho anche un altro contorno occhi pescato e con entrami mi ci trovo molto bene perché nessun contorno occhi fa miracoli io ve lo dico quando dico che mi trovo bene con un contorno occhi non è perché mi annulla le occhiaie nessun contorno occhi annulla le occhiaie sia chiaro proprio sono onesta però questo aiuta diciamo molto a illuminare lo sguardo perché contrasta contrasta l'oscuro il viola delle occhiaie ed ha un effetto naturalmente più luminoso questo sì magari se siete anche abituati ad andare in giro senza make up volete un look più luminoso proprio una skin care che vi illumini questo è molto è fatto è molto carina la cosa dei roller perché vi da sono freddi e vi danno anche un effetto diciamo che aiutano anche a sconfiare leggermente e a stimolare il microcircolo intorno all'occhio ma perché ve li consiglio perché vi consiglio questo uno appunto per questa azione che è visibilmente illuminante proprio dopo la skin care dopo certi prodotti io vedo proprio il mio viso anche da struccato ha struccato molto molto meglio proprio un'altra cosa perché mi illumina seconda cosa mi trovo molto bene con i roller che mi rinfrescano mi danno proprio anche una bella sensazione terza cosa qualità prezzo assurdo quantità prezzo se ci guardate il contorno occhi tipico è 15ml questo è 20 e costa mi sembra 16€ qualcosa il contorno occhi costa sempre tanto perché è un prodotto particolare che va in una zona particolare e come prodotto è sempre costato più di alto e è nickel tested e soprattutto è 20ml di solito è 15 quindi 16€ per 20ml è veramente competitivo soprattutto nickel tested e vegan ok non so io veramente sempre con i prodotti di richioma che ho provato mi sono trovata sempre molto bene se non la conoscete lei è una make up artist che insegna anche un'accademia di make up ed è una persona molto competente a mio parere e tutto ciò che ho provato suo è molto buono consigliato veramente se cercate qualcosa anche per illuminare il contorno occhi e idratare anche bene sempre della sua linea però quella contro la luce è blu però sempre di questa linea di richioma di skin care o anche il tonico e ve ne parlo Cosme vi ha dato tante cose ma vi parlo solo di quelle che mi hanno colpito di più sono stare qui all'infinito e questo tonico allora può piacere o non piacere a mia madre ad esempio mi ha detto che non le è piaciuto perché era troppo denso a me perché è denso piace un casino è idratante abbastanza idratante sembra quasi un siero anche se è un tonico ha un profumo paradisiaco è buonissimo molto dolce quasi vanigliato anche questo nickel tested penso che tutta la sua linea sia nickel tested e trovate poche cose onestamente con testate sul nickel perché letteralmente costa avere la certificazione ve lo faccio vedere è proprio vedete è denso e mi idrata tanto e mi ci trovo molto bene però ripeto può piacervi come non piacervi a me questa 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 consistenza piace tanto tanto e lo distingue diciamo anche da altri tra l'altro anche questo è 200 ml di solito i tonici sono da 150 quindi anche qui quantità quantità prezzo molto buono devo essere proprio sono molto sincera con voi mi sto mi sto guardando intorno ci sarebbero ci sarebbero altri prodotti scusate ho digerito tipo il cappuccino ci sarebbero altri prodotti che vi voglio mostrare ma ho paura venga troppo troppo lungo il video quindi magari taglio taglio qualcosina tanto vi mostro tutti i prodotti nelle storie poi vediamo così allora ok taglio taglio qualcosina vi volevo vi volevo mostrare assolutamente e questi questi mi fanno impazzire questi questi sempre mi sono stati i miei dita cosma i fai ve ne ho già parlato e sono i monochrome ombretti liquidi e sono i monochrome ombretti liquidi di Alessandro colorati questo in particolare è rosa shocking il pack mi fa volare per me bellissimo vi ho detto che il pack per me gutta non sto a negarvelo dentro è fatto così ed è l'eyeliner che io indosso ora non so se riusciate a percepirlo io adoro questo prodotto ci sono anche altre colorazioni qui ad esempio ho questa che è un po' più sobria e dipende per cosa le usate io questo lo uso come eyeliner ed è comodissimo facilissimo da mettere perché lo metto con un pennello diciamo sottile e è il numero 04 B Extra io ve lo dico c'è proprio ce l'ho anche lilla lilla celeste e questi due li amo hanno un tocco di colore in più al make up senza essere esagerati a me non piace o almeno non li sono neanche fare trucchi troppo elaborati troppo colorati ma questo dà un tocco di personalità a un make up semplice e amo questa cosa veramente ha uno dei miei prodotti make up preferiti ad oggi meraviglioso non lo so veramente mi sono innamorata ne ho parato tanto e ho fatto anche complimenti all'Alessandro perché è veramente un bel prodotto tra l'altro questo bag opaco è bellissimo taglio su un po' di cose voglio solo farvi vedere anche che rossetto ho indosso è un altro un altro dei miei prodotti che veramente soprattutto questa colorazione sto amando tanto ed è Boss Lady dei sweet cream dei sweet cream di make up delight per cosme fai morbido idratante e amo questo colore secondo me mi sta veramente bene e ha un po' della Boss Lady devo dire il bag è molto bello e soft touch e anche questo mi sta piacendo molto l'ultimo prodotto che vi voglio far vedere è un prodotto invece di Allopody non è assolutamente sponsorizzata questa parte semplicemente non trovo un prodotto valido ho visto che ha fatto un gel protettivo anche la Mula che lo volevo prendere però anche lì costava un po' avevo già questo mi ci trovo bene quindi ho detto vabbè Chiara lascia stare non voglio accumulare prodotti magari quando finirà questo l'andrò a comprare ecco però intanto questo è questo è il nuovo la nuova crema protettiva crema solare di Yellowbody la prima che fanno l'ora protezione a SPF 25 quindi in medio quindi se siete chiari 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 forse è un po' poco però già la mia carlagione mi ci trovo per me va benissimo soprattutto da tutti i giorni forse al mare è meglio una 50 però andrebbe messo tutti i giorni la crema solare ecco e non lascia l'alone bianco non non unge per niente anzi forse è secca anche è più dalla parte del seccare che dalla parte dell'ungere ne basta poco e non non lo senti non è fastidioso da mettere non è pesante mi ci sto trovando molto bene non vince ci credo che protegge però non non ho la prova che protegga diciamo così ma come tutte le creme solari ti devi evitare ecco dei print io con il Lopodi mi sono sempre trovata bene soprattutto con certi prodotti e questo è un prodotto che mi è piaciuto particolarmente volevo ehm volevo parlarvene perché secondo me ehm quest'anno stanno uscendo dei prodotti interessanti per quanto riguarda la protezione solare ehm personalmente ho sempre avuto difficoltà a mettermi la protezione solare sul viso perché mi hanno sempre dato fastidio le protezioni perché erano tutte unte bisunte lasciavano il bianco non si spalmavano un pozzo vi faccio vedere com'è è così ce lo posso fare è così e vi faccio vedere vedete all'inizio bianco poi non si vede più niente e questo è quindi mi ci trovo molto bene devo essere sincera quindi io spero davvero che che questo video vi sia piaciuto che questo piccolo o vi sia piaciuto ho cercato di riunire un po' tutto ciò che avevo comprato eccetera io cerco visto che onestamente mi mandano molte cose i brand cerco sempre di essere molto selettiva con quello che compro e in generale preferisco spendere un po' di più e prendere prodotti che mi convincono al 100% piuttosto che prendere tanti prodotti a poco prezzo questa è la mia filosofia quindi e cerco sempre di finire i prodotti e di ah ma ecco questo sottofondo è tornato a piovere bene e cerco sempre appunto di di avere dei paletti ben chiari con i prodotti che scelgo quindi made in Italy non per forza questi sono fatti in Germania ma comunque made in Europe cruelty free quindi che non vendono in Cina dove testano sugli animali dove i prodotti possono essere stati su animali vegani ci però direi che tutti i prodotti che vi ho mostrato oggi sono anche vegani e sembra una cavolata però molte volte ci sono prodotti non so grasso di foca ci sono delle cose cui non si pensa però che ci sconvolgono un po' quando è andata in Namibia quando era andata in Namibia avevano fatto una gita per vedere le foche è un'isola piena di foche qui c'è una puzza incredibile e gli diceva detto che la caccia alle foche e a volte lì penso fosse legale cacciare le foche e perché lo si faceva non per la carne non per i cosmetici diceva proprio signore vi sorprendereste a indagare su cosa c'è nei vostri cosmetici e lì c'ero rimasta tipo in che senso c'è della foca nei miei cosmetici e mi ha dispiaciuto molto quindi sì insomma per me è abbastanza importante che anche i prodotti siano anche vegani non è obbligatorio però se trovo qualcosa che lo è meglio sicuramente mi sto approcciando al cruelty free a parte poche eccezioni compro sempre cruelty free tutte le ultime cose che ho comprato lo sono e insomma cerco di essere comunque cerco di premiare i brand che si impegnano sotto sotto molti punti di vista quindi sotto il fattore etico ambientale e di qualità ovviamente perché comunque adesso c'è veramente tanta tanta scelta tanti tanti brand e a un certo punto i prodotti non saranno mai unici e inimitabili però secondo me bisogna molto guardare dietro al brand anche lì shampoo sono nickel tested comunque ci ho guardato ora quindi top io ci vado molto a queste cose le mie scelte sono un mix di estetica valori sostenibilità eccetera e alla fine il campo si restringe abbastanza vi dico la verità quindi io spero davvero che questo video vi sia piaciuto spero vi sia interessato spero che la location mi sia piaciuta e che non vi abbiano dato fastidio anche magari dei rumori di sottofondo spero che anche la location vi sia piaciuta che vi siano piaciuti anche i rumori di sottofondo adesso se sentite si sente la pioggia e anche un po' gli uccellini oltre che a volte il traffico ma questo non lo posso controllare e magari un'altra volta possiamo fare il video quando c'è il sole lo so ditemi se vi piacerebbe io adoro la mia terrazza e non vedo l'ora di farvi vedere tutto bene nell'hub tour quando raggiungeremo un milione il milione si spera presto e io penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si aggiunto allora avvassar le luci e augurarvi augurare augurarti augurare a te una buona 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 notte buonanotte buonanotte sognito, 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 ora good, 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 good night sweet dreams buenas, 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 no, just dulce sueños bon nuit, bon nuit, bon nuit good night, good night, good night, good night sentite come piove, è meraviglioso good night, bon nuit, fete gioiei e rêve comincia anche a esserci un po' freschino comincia a piovere forte e a esserci un po' di vento un po' più freschino è arrivata proprio l'aria fresca proprio sentita adesso, fortuna che ho finito il video e good night buonanotte, pasticcini, un bacione un bacione, un bacione, un bacione che lì spera un bacione che lì può essere un bacione, un bacione che lì è sospita, sempre fai un bacione che il bacione di atleta, che è il bacione un bacione, un bacione che lì si fai fatto un bacione che lì